Cristina Di Pietro, sindaco di Civitella del Tronto, oggi una grande mostra con un fotografo molto importante e tanti artisti, grazie a Destinazione Arte e al professor Massimo Pasqualone. Come mai questa fortezza Civitella del Tronto non è ancora abbastanza valorizzata nonostante il successo di presenza di turisti? Noi avremo la presenza del professor Sgarbi che ci onorerà appunto della sua presenza e del suo contributo. Sulla fortezza, anche quest'anno si conferma il monumento d'Abruzzo più visitato da tutti gli italiani ma soprattutto da molti turisti stranieri. Non è abbastanza valorizzata per le potenzialità che ha, quindi le persone che vengono qua si rendono conto di quanto potrebbe essere utilizzata più di quello che si sta facendo. Però io ricordo che negli ultimi anni c'è stato un incremento del 20% di presenze turistiche, adesso c'è stato questo importante finanziamento concesso dalla regione Abruzzo che è appunto contenuto nel Masterplan. Noi crediamo che con questi soldi riusciremo a utilizzare questo grande parco scenico per ricevere manifestazioni sempre più importanti. Lei ha fatto un esempio divertente, Massimo Pasqualone è un po' un pastore con le sue pecorelle, questi artisti che si affacciano al mondo dell'arte e che lo vogliono un po' così percorrere. Lei è il vescovo che ha benedetto questa iniziativa anche molto bella e soprattutto al di fuori diciamo di logica e di potere. Sì, non saprei che dire, nel senso che la determinazione con cui oggi una persona si muove nel mondo dell'arte è immensamente proporzionale all'accoglienza che potrà trovare. Quindi un tempo vi era comunque un nesso fra una galleria, un artista, un critico che si muovevano entro ambiti in qualche modo riconoscibili. Oggi appaiono artisti, trovano spazi non previsti e non predeterminati, si muovono con convinzione e quindi noi dobbiamo prendere atto che c'è questa riforma costituzionale per la quale occorrerebbe inserire nella Costituzione, su cui ho appena scritto tra l'altro un libro dal titolo La Costituzione e la bellezza, il diritto alla creatività, che è un dato certo, nessuno può impedirlo, come il diritto alla libertà di parola, come il diritto alla salute che presuppone che uno debba essere curato se è malato. Quando si parla di arte condivisa, quindi compresa, ha un diverso livello di comprensione. C'è chi la capisce di più, c'è chi la sente di più, c'è chi ha un processo mistico e di misteriosa segretezza nel rapporto con un artista.